Ci sono ancora i fiori della festa sulla scaletta di ingresso al Tortuga, il veliero coinvolto nell'incidente a mare nel quale, nello scontro con un'altra imbarcazione, ha perso la vita la turista americana Adrienne Vaughan, 45 anni, che si trovava a bordo dell'imbarcazione da diporto, un gozzo noleggiato con conducente insieme col marito e i suoi figli di 12 e 8 anni. È risultato positivo ai test tossicologici che hanno accertato la presenza di alcol e cocaina. Lo skipper del motoscafo, un trentenne campano, che nell'impatto avvenuto ieri pomeriggio all'altezza di Conca dei Marini, ha riportato anche delle lesioni, un'infrazione al bacino e la frattura di alcune costole, si trova ora ricoverato a Ruggi di Salerno, dove gli esami tossicologici hanno dato esito positivo. Il veliero, invece, utilizzato per eventi e feste come il banchetto da ballo in corso ieri, è sotto sequestro nel porto di Salerno alla stazione marittima, nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica guidata da Giuseppe Borrelli per fare luce sull'incidente. Fondamentali per ricostruire la dinamica alla quale sta lavorando la capitaneria di porto del comandante Attilio Maria D'Aconto, alcuni video girati dagli ospiti a bordo del veliero. In uno in particolare si vede un'onda che potrebbe rappresentare la scia del Gozzo, a bordo del quale si trovavano i turisti americani e la vittima e che, come si intuisce dal video, avrebbe virato di colpo per evitare il veliero scontrandosi con la prua dello stesso. Nell'impatto il Gozzo ha riportato una grossa falla che ne ha causato l'affondamento. Da oggi sono in corso anche le operazioni per il recupero della barca.